La campagna sul podio delle bandiere blu. Con 19 riconoscimenti la regione sale al secondo posto in Italia preceduta solo dalla Liguria. Vico e Quense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrensia, Nacapri, poi il Cilento a farla da padrona con Capaccio, Agropoli, Castellabate, Monte Corice, San Mauro, Pollica, Casalvelino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati e Sapri. Per la costiera amalfitana, Positano. Ci confermiamo la prima regione del sud per il mare pulito, la soddisfazione del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Un grande risultato, le sue parole, ottenuto anche grazie al piano per la depurazione delle acque avviato dalla regione. Adesso dobbiamo accelerare sul programma Covid Free. Dopo Procida, capitale italiana della cultura e Capri, ora tocca a Ischia e a tutta la nostra fascia costiera. Ripartiamo in sicurezza e con il mare pulito il messaggio del presidente. Un traguardo salutato con grande gioia anche da Camerota, new entry di questa classifica, come sottolineato dal sindaco Scarpitta. Una notizia meravigliosa, spettacolare, straordinaria. Davvero siamo carichi di gioia. Per noi è davvero un giorno da incorniciare. È il sigillo finale che serviva alla nostra Camerota, a Marina di Camerota, per diventare definitivamente una delle località più ambite del Cilento e non soltanto. È l'ultimo vessillo che ci mancava, il più importante, l'abbiamo raggiunto. Continueremo a lavorare con questo entusiasmo e dobbiamo dire che questo non è un punto di arrivo, è un altro ulteriore punto di partenza.